Hola, io sono Marcus Crohn e signore e signori bentornati in una nuova puntata della Be Happy Ho appena scoperto di essere un coglione Perché vi ricordate quando dicevo Oh, ma che palle La bovina non mi produce Il Milky Comb Io andavo a vedere qua E c'era un bar nel pieno Cioè, non è pieno Però ci stanno tre stack Quattro stack, quindi sono Un babbeoide Sono davvero davvero un babbeoide Questo significa che possiamo raggiungere il nostro obiettivo Semplicemente mettendo Il Milky Qui dentro Che ci viene dato Ci viene trasformato In Milky Comb Anzi, Milky Drop Dov'è il Milky Drop? Eccolo qua Anzi, Milk Dew Che ci dà 200 mbb Di brbb Quindi basta avercene 5 e stavamo a pace Ma va bene, sono un cretino Con il Biswax possiamo non sprecare questo buon miele Questo nettare degli dei E fare tante di queste qui Forse le ho fatte troppe Delle Empty Magic Cup Quindi guardate qua Basta Finito Quindi questa adesso la possiamo A parte che avevo fatto questa apposta Però va bene Chi la tocca più quella? Ok, allora Qui dietro al Carpenter Continuiamo a mettere Il Seed Oil E qui invece ci andiamo a mettere Il Lattosio Signore e signori Mettiamoci nel preciso 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 Un altro zombie è morto nel frattempo Ci servirebbe Ci servirebbe Sapete che faccio? Sapete? No Non era questo quello che volevo fare E secondo me servirebbe Uno di questi per prenderle Perfetto Queste qui le buttiamo dentro C'era da qualche parte Un secchio Lo ricordate un secchio Che secchiellava le cose? Non l'abbiamo fatto? Possibile Mi drogo? Mi drogo forte? Non lo so Scopriamolo insieme Allora Qui abbiamo Il secchiellozzo No Ne manca uno Vai Chicco Squizzati tutto Abbiamo un secchiello D'acqua Signore Sì Di acqua Di latte Signore e signori Quindi Possiamo Andare A B-Restaurants Eccola qua Yep Milky Allora Solar Panel Automation Upgrade Io prendo il Production Upgrade Che ci manca Abbiamo Toltri Solar Panel Fantastico Fantasticissimo Vi ho detto Qui qua E Di qua Avevamo messo La mia amica Spiteful Non mi ricordo Perché l'avevo messa La Spiteful Però se mi da 4 Vuol dire Già modificata Genetica Mount Aspetta Forse mi servirà Separata Vediamo un po' Con che si fa Ah per fare il carbone O per fare la Destabilized Ok La Stannum Oppure La Withering Con la Demonic La Demonic È Sinister Più Feldschiff Che guardate un po' Non è qui Non è qui Mi sa che ho messa Della Può darsi Credo Non ho memoria Di queste cose Allora dove è una Stannus Stannus Qui Che cos'è questa Bronzo Stannus 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 Doi Stannus Eccola L'ho vista L'ho vista Di sfuggita Perfetto Andiamo a buttare qua dentro E se invece cercassi il gene Se lo cercassi Perché come si fa Si fa facile o difficile Infernal e Hatfuel Si fa difficile ragazzi Mi sa che quest'ape Si fa difficile E quindi Mi vorrebbe da pensare Marcus Crone Non sprecarla Subito Cioè Aspetta Potresti prendere il gene Della razza Che forse è giunto il momento Di cominciare ad evitare Di sprecare api Allora Qui ci sta un sacco di spiteful Anche qui Perfetto Possiamo Possiamo farlo Aspetta Aspetta Come va la Sinister Va bene Va bene Ci piace Ciao stronzo Rimani lì Bastardo Ok Ok Allora Come funziona questo Funziona che prende Il tratto genetico Di questi fregni Se gli mettiamo Quegli altri fregni là Quindi spero di essere stato Molto chiaro Perché Era un po' difficile La descrizione che ho fatto Molto semplicemente Adesso vado a fare Un hopperino Ma perché faccio un hopper Quando ho Le mod tecniche Che non mi fanno sprecare Dove stanno i tubi No No It induct Perfetto C'ho anche Il pneumatic servo Yeah Ho anche Le chest Che ho preso Adesso quindi Ce le dovrei avere Da qualche parte Cazzo Messe Le chest Ragazzi Ce le avevo Un secondo fa Ce le ho ancora Sono un rincogliorito Molto bene Allora Qui facciamo così E con la sfrancina Gli diciamo Mega carca Mega carca Perfetto Avete visto Facile facile Hop E qui sopra Ci dovremo mettere Quei nuggetsini vuoti Che sono questi Ok Questo qui Io lo brucerebbi Grazie dei tuoi gold No Fermo Fammi questi Vediamo un po' come si fanno Si fanno facilissimamente Con del tin Quindi sa che io vado a fandoli Vediamo se me le fa Cioè Quanti me le fai Eh Direi che si 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 È un buon investimento Spregarne un pochino Di tin Oppeta E oppeta Poi Voglio fare così Così E dirgli Quelli vuoti Mandameli qui dentro Quelli pieni Mandamela qui dentro Saranno a botte di 5 Vediamo un po' se funziona Funziona Perfetto L'unica cosa che ci manca È Quei fregnetti là Però adesso abbiamo L'ape del diamante Quindi ok Non è velocissima Ma ce li riprendiamo Piano piano Li facciamone Direi 32 Non sprechiamo tutti i diamanti Che potrebbero servirci Da un momento all'altro Quindi Abbiamo messo la spiteful Ci buttiamo dentro Questo qui E stiamo cercando Il gene della spiteful Signori Lo stiamo cercando Lo vogliamo Lo desideriamo Ardentemente Vediamo che ci esce Un po' allentino Il procedimento Allora Temperatura tolleranza Toleranza alla temperatura Non ci aiuti Affatto Il mio caro piccolo Stronziolo L'icefone Long Dai Non mi fare fare il giro Che cos'era? Era specie? Fertilità 4 Mi dispiace Mi dispiace Purtroppo Fare l'epicoltore È anche questo Flower rocks Quindi non ci aiuta Stanno finendo Non voglio sprecare Tutti questi diamanti Ti prego Tiramela fuori adesso Flower rocks Grazie Ti voglio bene Dai Altre due possibilità Eccolo No Tolerant flyer L'ultima possibilità Prima di buttarle Tutte dentro la fornace Dai Gecko Dai Gecko Territorio largo No Ancora un'ultima possibilità Se no dopo lo devo fare io Mi tocca farlo a me Aio Fast Niente Ci ha detto Sfiga ragazzotti Ci ha portato Tot e geni Ma che Non fanno al caso nostro Pensavo E riflettevo Mentre facevo il coglione Che Potremmo metterci Una fornacina Ok Vedere Se La mia piccola amica Si fa entrare questi cosi Da sopra o da sotto Ok Perché nel caso Io potrei fare così Buttarci dentro Che cacchio ne so Del Colle che non ho Facciamo così Scusate Così 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 E così Ricordatevelo qua Che è importante Ora Io spero che Cicciavelata Prenda Da Tutte le parti Mettiamo una cesta Sto bruciando una cesta Sono proprio un coglione Sono proprio un coglionazzo Ma va bene lo stesso Ma va bene Va bene Va bene ragazzi Dai Va bene No che non va bene Ho bruciato una cesta Dannazione Sono proprio stronzo Vaffaccolo Vai A fare buono A fare buono Ok Chissà se Me lo tira da fuori Però io Devo fare altri Item Doctrine Poi sto stacco Con tre stupidissimi Item Doctuk 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 Non così Quindi A Tin E lì dal centro Me lo ricordo A memorietta Non ci voglio credere Ho finito il Tin Oh mio Dio Oh mio Dio Si Che culo Tin Nuggets Meno male che è consumato poco Tin Eh Meno male Bravo Marco Scrodo Bravo Allora facciamo Pumpt Pumpt Vediamo un po' se li prende Non lo prende perché la fornace è stronza La fornace è stronzissima ragazzi E' strastronza La fornace prende da sotto Cioè prende il coso da sotto Non mi va di metterci quella elettrica Perché ho paura che mi cada Quindi che facciamo Che facciamo Prendiamo quello vuoto Vediamo intanto se funziona Così scende giù Scendi giù Scendi giù Manifesta pure tu Si Si Pronto Ok sta lavorando Poi se mi finisce Ma perché lo sto fa Che se poi mi finisce dentro la fornace Mi Chiappetta tutto quanto Sto facendo una sciocchezza Sto facendo una sciocchezza E voi non mi avete detto niente Bravi Bravi Bravissimi Bravissimissimi No dico siete bravi Siete bravi Allora facciamo così Pam 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 Ok Qui Niente da rifare Non ci ho pensato dopo Che l'avrei Avrei bruciato pure quello che volevo Quindi facciamo così Facciamo Così Così Perfetto E questo qui dovrebbe essere il culo Gli diciamo entra Controlliamo Yeah Anche se Anche se Anche se Anche se Io questo qui lo lascio spento Qui ci finiranno tutti questi Quando vedo che non funziona E non mi piace Lo attivo Mi fa finire qui dentro Va a far finire qua dentro Vero vai a far finire Vero Lo farfi? Eh? Lo stai far fendo? Non lo fai? Ok E me li brucia tutti quanti Quando li vengo a prendere Non posso sprecare altro di me ragazzi Quando li vengo a prendere Li butto qui dentro E ciccia al culo Quindi In questa improduttiva puntata Non è vero Però è improduttiva comunque sì C'era una cosa Con la Stannus Che volevo fare Che non era la Plumbun Non era la Bronzed Era la Carbone Ah è vero Giusto Giusto Però aspetta La posso usare la principessa Perché tanto C'ho un botto di droni Per un botto di droni Il carbone Farei Oh yeah Per un botto di droni Il carbone Modificherei geneticamente Chiudo gli occhi E ti faccio trottare con una merda Turuturuturuturuturutur E con il Ferrous Con quella del Ferrous Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Che dovevamo fare quella del Linvar Per cui serviva quella del Nickel Però del Nickel Forse me ne aveva data una in più Mi sbaglio? Dico male? Nickel Nickel Nope E nope Forse quella del Ferrous Me ne aveva data una in più Stannus Ferrous Un sacco di cosi Di clonetti E quindi devo usare Questa stessa tattica Ragazzi Purtroppo Devo andare Qui Devo buttarli dentro Devo chiudere questo Altrimenti Si brucia Toglio questa brutta visualizzazione E sperare che in questi 8 Che stanno entrando Mi tirerà fuori Il gene Della Spiteful Quando avrò fatto questo Dovrò farlo anche Per la Ferrous Evidentemente O per la Quella che si No Per la Ferrous Perché mi dà Tre incroci Aspetta La Ferrous mi dà Quella del Nickel Con l'Esoteric Ah Ah Vedi Flower Niente Niente Oh Massa Siamo proprio Degli sfigati Degli sfigati Ma che dico Degli sfigati Ragazzi Degli sfigati Prendiamo questo Oh guardate qui Che cosa è successo Ehi Dove è finita La mia ape Allora questa sta Continuando a ciclare E ha fatto 36 pezzi Di Electrum Questa 44 di silver Quindi io direi Di Pam Farli partire E farli andare In giro Per il mondo Non ho ben capito Che è successo Qua dentro Ah ma qui c'era La Spiteful Scusate La carbone Sta funzionando Gli tolgo Le tolgo L'automation upgrade In questa maniera Poi potremmo Farla funzionare meglio Tra l'altro Se non va del razio Sul nostro Liberculo delle quest Uh Uh Ma B-Restaurant Sei ampliato Fermati Mortal and Pestel Uh Cosine 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 Mortal Mortacci tua Ma che è Ah è stone Ma che cazzata Vabbè io direi Questa qui Facciamo la parte cibosa La facciamo nella prossima puntata Piuttosto stavo Volevo fandovi vedere Che Dove cazzo Induzione del fattore Ecco Nope Machinery Yeah Qui anche c'era L'ave del coal Ok Carbone Col coal Facciamo la grafite E con Questo qui Prendiamo un'altra Ave del carbone Perché effettivamente È figo Che ce l'abbiamo È molto bello Vediamo se ce l'ha data No Vaffangulo Vai A Vangula E vabbè Ragazzotti Alla prossima puntata Bella per voi Vabbè